E' tornato in libertà il cinquantenne di fiume freddo di Sicilia, arrestato dai carabinieri della locale stazione lo scorso 19 giugno con l'accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nella sua abitazione i militari nel corso di un blitz giunto al termine di un'attività info-investigativa avevano trovato e sequestrato ben 93 piantine di marijuana coltivata in terrazza, circa 50 grammi della stessa sostanza e 2.500 semi di canapa indiana. Questa mattina il Tribunale del Riesame, presso cui il legale Michele Panzera aveva presentato istanza di scarcerazione nel giorno stesso della convalida dell'arresto, lo ha rimesso in libertà, disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Soddisfatto per la pronuncia del Riesame, il difensore di fiducia era una decisione attesa, ha dichiarato Michele Panzera, in quanto erano scemate di molto le esigenze cautelari. Intanto sempre questa mattina si è aperto il procedimento con rito alternativo, tuttora in corso nei confronti dell'uomo.